Allora, riprendiamo quindi il tema dei grafi parlando di due argomenti che ci sono rimasti, non sono particolarmente complessi ma ci tengo a raccontarveli soprattutto perché ci fanno capire che non sempre la soluzione ricorsiva è quella che funziona sempre o quella che funziona meglio. Noi abbiamo imparato, dato il problema, imposto la procedura e vado a cercare tutte le soluzioni possibili ma a volte non è così, a volte ci sono dei problemi che si possono risolvere in modo diretto, studiandoli direttamente in modo molto più efficiente. E questo è il tipico problema del cammino minimo che avevamo già accennato qualche tempo fa, in cui quando io ho un grafo tipicamente pesato e molto probabilmente anche orientato perché così diventa più complicato, in cui devo trovare ad esempio il cammino minimo tra un vertice di partenza e un vertice d'arrivo, sappiamo che nel caso di un grafo pesato non è detto che il cammino minimo coincida col cammino più breve, nel senso del numero di archi, il cammino minimo sarà quello di peso minimo, quindi la somma dei pesi degli archi che attraverso è minima, ha il valore minimo. Come ad esempio qua vediamo che se io da s vado a u con peso 3, quindi uso questo arco, poi per andare da u a v non mi conviene passare da questo arco da 6, ma invece mi conviene passare dall'arco di peso 1 più l'arco di peso 4 e quindi faccio un percorso che complessivamente ha peso 1 più 4 uguale a 5, che è minore di 6, quindi mi conviene fare un percorso più lungo in termini di lunghezza del percorso, cioè numero di archi, ma di peso minore. Quindi sembrerebbe a prima vista che per riuscire a trovare il cammino di peso minimo io debba provare tutti i cammini possibili e immaginabili, quindi mi viene quasi in mente, diciamo abbiamo preso, diciamo così, ha fatto omicizia con la ricorsione, mi viene in mente, ok faccio un argonimo ricorsivo che partendo da s costruisca tutti i cammini possibili e immaginabili, aspettandomi già il tipico algoritmo che è una complessità di tipo esponenziale, perché il numero di cammini in un grafo chiaramente è esponenziale nel numero di vertici, perché come upper bound ha il numero di permutazione di tutti i vertici, cioè in che ordine li vado a visitare tutti. Allora, in realtà se uno studia quel problema nello specifico si accorge che si può approcciare in un modo diverso, non brutta forza, ma semplicemente analizzandolo. Io qua semplicemente richiamo solo rapidamente alcune definizioni per riuscire a capire come, quindi dicevamo, potrei dire adesso ci mettiamo lì e scriviamo un argomento ricorsivo, oppure apriamo un libro e vediamo se qualcuno ha studiato questo problema e abbia trovato una soluzione che sia più efficiente rispetto a quella ricorsiva che ha il problema chiaramente della complessità. Allora, qui solo come notazione, chiamiamo P un cammino, W il peso di quel cammino che sarà la somma dei pesi dei singoli archi UV, dove UV sono i singoli archi che appartengono al cammino P. Quindi un cammino P, P come path, è fatto di tanti archi, ogni arco è identificato da una coppia di vertici, ipotizziamo che il grafo sia semplice e non un multigrafo, per semplicità ma non cambia nulla, perché se fosse un multigrafo mi basta considerare tra i vari archi paralleli solo quello di peso minimo. E quindi sappiamo definire il peso. Il cammino minimo tra un vertice U e il vertice V è definito come cammino che collega ovviamente UV che minimizzi questa funzione di peso. E vabbè, l'abbiamo detto con parole diverse. Se noi definiamo il peso del cammino minimo come con la lettera delta. Delta ricorda la D e ricorda la distanza. La distanza minima è la lunghezza del cammino, il peso del cammino di minimo valore. Ok? E quindi per comodità nel caso in cui V non sia raggiungibile da U, perché può darsi che non tutti i vertici siano raggiungibili, allora per convenzione identifichiamo questa distanza con il valore infinito. Ma fin qua, diciamo così, sono tutte definizioni di buon senso. Ecco, dal punto di vista algoritmico cosa possiamo voler fare? Possiamo voler fare la ricerca data un vertice del cammino minimo per un altro vertice, oppure da un vertice per tutti gli altri vertici, quindi se io parto da questo soggente quali sono tutti i cammini minimi da questo vertice a tutti gli altri, oppure tutti i cammini minimi tra tutte le coppie di vertici, quindi da qui a qua, da questo a questo, da questo a questo, da questo a questo e così via. Sono problemi diversi, la prima categoria sono problemi di tipo single source, cioè tutti i cammini che mi interessano partono tutti dalla tua sorgente unica, oppure dei problemi di tipo all pairs, cioè io non so a priori qual è il punto di partenza e quindi il mio algoritmo deve trovare tutti i possibili cammini, ok? Chiaramente a seconda del problema che devo risolvere mi servirà un algoritmo di un tipo oppure un algoritmo di tipo diverso. In realtà non esiste la sotto casistica single source o single destination, perché si è scoperto che la complessità per risolvere questo problema da una sorgente a una destinazione è esattamente identica alla complessità per risolvere il secondo problema da una sorgente a tutte le destinazioni e quindi di fatto non servono algoritmi specializzati per la prima casistica. Tenete presente che di questa categoria single source, shortest path, nel caso in cui il grafo non fosse pesato, ma non è questo il caso in cui ci stiamo mettendo adesso, nel caso in cui il grafo non fosse pesato ci basta la visita in ampiezza che già conosciamo da tempo. Se ci sono i pesi invece chiaramente la cosa si complica. Poi dobbiamo fare attenzione perché se tu vai a prendere un libro di matematica ti dice qual è l'algoritmo per trovare la lunghezza del cammino minimo. Ti dice ok, benissimo, tra questa sorgente e questa destinazione esiste un cammino di lunghezza 27.3, ok? Qual è il cammino? Vabbè, tanti teoremi non te lo dicono, ti dicono come calcolare la lunghezza ma non quale sia l'effettiva lunghezza. Noi normalmente vogliamo, scusate, l'effettivo cammino. Noi in realtà vogliamo molto spesso, anzi ci interessa quasi di più l'effettivo cammino che non il valore numerico della lunghezza che possiamo calcolarci in qualunque momento, ok? Quindi dal punto di vista algoritmo ci serve qualcosa in più. Ok, come possiamo rappresentare questo problema dal punto di vista delle strutture dati? Vabbè, noi sappiamo già, i nostri dati di partenza sono sicuramente la conoscenza degli archi e del peso degli archi. Immaginiamo di voler memorizzare in una struttura dati tutti i cammini minimi da una sorgente unica, ok? U. U è la nostra sorgente, il nostro punto di partenza. Allora, qual è la struttura dati più compatta, più semplice per poter rappresentare tutti i cammini minimi da un unico vertice di partenza? È un albero. Così come abbiamo già fatto l'albero di visita, possiamo fare anche qua un albero dei cammini minimi. Un albero che contenga per ciascun, partendo dalla nostra sorgente, che abbiamo chiamato U, tutti i vari nodi, e ci dice essenzialmente per raggiungere questo V, qual è il cammino che devo fare, semplicemente tracciando all'indietro quelle che sono, diciamo così, il percorso indicato dall'albero di visita. Questo funzionava con i cammini minimi, diciamo così, senza peso, funziona anche con i cammini minimi col peso, tra l'altro ci convinceremo di ciò tra un secondo con un teorema fondamentale sui cammini minimi. Allora, se decidiamo di rappresentarlo come un grafo, semplicemente ci basta per ciascun vertice, V, qualunque, conoscere qual è il vertice precedente, quindi il genitore nel grafo, il vertice superiore all'interno dell'ordinamento dato dal grafo. E che era quello che avevamo fatto anche con il codice Java, vi ricordate c'era il Getfather, no? Nell'iteratore, oppure ci siamo fatti la mappa in cui siamo andati a memorizzarci per ogni vertice, il vertice da cui era stato scoperto. Quindi a noi basta questa informazione per poter ricostruire l'informazione da ogni vertice, qual è il suo predecessore nell'albero dei cammini minimi per poterci dire qual è, per poter ricostruire tutti i cammini da il nostro U che è fisso a un V che è generico, ok? Questo lo rappresentiamo nelle slide che seguono col simbolo P greco, P per predecessore, quindi P greco di V è la relazione che dato un vertice mi dice qual è il suo predecessore nell'albero dei cammini minimi. Non è un albero, attenzione, l'albero dei cammini minimi non è un albero di visita, non lo tengo facendo un iteratore o una visita. Sarà il risultato di un algoritmo che dovrà calcolare questi benedetti cammini minimi e poi me li rappresenta tutti in un modo compatto, attraverso questo. E poi abbiamo già dato la definizione delta che è la distanza, quindi la lunghezza di questo cammino, solamente per averla comoda nei calcoli, ok? In pratica, se noi dovessimo fare una struttura dati, ci basta aggiungere nell'informazione di ogni vertice un'informazione di qual è il vertice precedente, quindi la proprietà che dice qual è il vertice precedente, ok? Ad esempio, questo è l'insieme di tutti i cammini minimi di questo grafo partendo dal vertice di partenza S. E mi sta dicendo per ogni vertice, la prima tabella o la funzione pi greco, che mi dice per ogni vertice qual è il vertice precedente, nell'albero dei cammini minimi. E quindi, ad esempio, S, essendo la sorgente, il punto di partenza, non ha nessun precedente. U ha come precedente S, X ha come precedente U, e così via. Questo, non lo vediamo a occhio, è già il risultato dell'algoritmo che ha calcolato tutto, ok? E quindi, questo algoritmo ci sta dicendo che questo è un arco che ci serve, per arrivare a U si passa da S, per arrivare a X si passa da U, per arrivare a X si passa da U, e quindi l'arco che raggiunge X partendo da U è questo. Quindi, non si arriva a X direttamente da S, ma se io voglio andare in X, devo passare da U. In V si arriva passando da X, quindi questo è l'arco che mi serve. In Y si arriva passando da V, quindi questo è l'arco che mi serve. Questi che ho evidenziato, uno, due, tre, quattro archi, sono l'albero dei cammini minimi. E seguendo questi archi, io posso passare dal vertice S a tutti gli altri vertici, sapendo che il cammino che faccio è quello di peso minimo, ok? Se voi cercate un qualunque altro cammino, vi accorgete che è un peso maggiore. Ecco, per sintesi, il peso di questi cammini minimi l'abbiamo rappresentato nella tabella delta. Mi dice, ad esempio, Y si raggiunge con peso 10, cos'è questo 10? È 3, più 1, 4, più 4, 8, più 2, 10. Ok, quindi questo è il modo con cui ragioniamo, da adesso in avanti, negli algoritmi, pensando a queste due tabelle, queste due strutture dati. Questo è il punto d'arrivo, ok? Noi ovviamente non conosciamo questo punto d'arrivo in partenza. Noi avremo solamente, l'unica cosa che conosciamo in partenza è questo, che la sorgente chiaramente ci sono già e quindi non devo provenire da nessuna parte, e la distanza per raggiungere la sorgente sarà 0. Tutto il resto va scoperto, ok? E deve essere calcolato dal algoritmo. Questo funziona per via di una proprietà non banale la prima volta che ci pensiamo, ma poi invece ovvia le volte successive, è che il vertice precedente relativo a un nodo intermedio di un cammino minimo non dipende dalla destinazione finale. Cioè, noi abbiamo detto, prima capiamo la frase, poi abbiamo detto, per arrivare a v devi passare da x. Questa proprietà vale sia nel caso in cui v sia la mia destinazione finale, e mi dice, per arrivare a quel v devi passare da x. Ma vale anche nel caso in cui io, la mia destinazione finale sia un'altra, sia diversa, sia y, o sia z, o sia chissà che cosa, ma devo passare da v. Se io devo passare da v per arrivare a z, non c'è in questo grafo z, quindi immaginatevelo lontano, allora arrivare a v conviene passare da x. se v è la mia destinazione finale e il suo precedente è x, questo lo capisco. Se v è un punto intermedio per arrivare da qualche altra parte, fa parte di un cammino minimo per arrivare da qualche altra parte, e allora, comunque, conviene passare da x. Cioè, il fatto, il percorso che mi serve per arrivare fino a v è indipendente dal percorso che dovrò fare da qui in avanti. Quindi, se io devo fare da s a v a z, scusate, questa è una v, oppure da s a v a k, oppure da s a v a chissà che cosa, j, quindi, in realtà, mi serve il cammino minimo da s a z, oppure da s a k, oppure da s a j. Se scopro che questo cammino minimo, e questo se scopro, adesso si capiamo cosa vuol dire, se scopro che devo passare da v, allora il predecessore di v sarà x, sia in questo caso, che in questo caso, che in questo caso, che in tutti gli altri casi. Il predecessore di un vertice, che appartiene al cammino minimo, anche se questo vertice è intermedio, non dipende da quale sarà il nodo finale. E questo è ciò che ci permette di codificare come un albero l'insieme delle soluzioni. Altrimenti non l'avremmo potuto rappresentare come un albero, perché il predecessore dipendeva da cosa avvenne dopo, sarebbe dipeso dal punto di arrivo finale, e quindi non mi bastava dire, per arrivare a v devo passare da x. No, devo passare da x in un caso, devo passare da x primo in un altro caso, eccetera, eccetera. No, in questo qua non vale. Quindi, questo vale se io so che un certo vertice fa parte del cammino minimo. Quindi, se io ho due cammini, che partono entrambi da u, e arrivano a due punti finali diversi, v1 e v2, che sono diversi, ma mi accorgo che c'è un vertice, almeno un vertice, comune tra i due cammini, quindi un vertice a metà, qua, guarda caso, se il cammino minimo per v1 passa da un vertice vw, e guarda caso, il cammino minimo per v2 passa anch'esso da vw. Allora, questo lemma dice che il predecessore di vw è indipendente da v1 e da v2. è sempre lo stesso. E' come se mi dicono, guarda, per andare, dico le cose che non sono esattamente esatte, per andare a Venezia, la strada più breve passa da Milano. Qualcun altro mi dice, per andare a Bologna, la strada più breve passa da Milano. Allora, se queste cose sono vere, cioè se la strada più breve passa da Milano, allora, chiedermi qual è la strada più breve per arrivare a Milano, che per me è il punto intermedio, perché le mie destinazioni finali sono Venezia oppure Bologna, la strada minima che devo fare per arrivare a Milano è indipendente dal fatto che io mi voglio fermare a Milano, oppure voglio proseguire per Venezia, oppure voglio proseguire per Bologna, oppure voglio proseguire per qualunque destinazione in cui passare per Milano sia la scelta più migliore, sia la scelta più economica. è abbastanza intuitivo così. Quello che è meno intuitivo è che questo devo sapere a priori che passare per Milano è una cosa migliore. È chiaro che se devo andare da Torino ad Aosta non mi conviene passare per Milano, e quindi qual è il percorso minimo per arrivare a Milano non me ne frega niente, perché Milano non fa parte del percorso più breve tra Torino e da Aosta. Questa semplice proprietà in realtà ci permette di risolvere in modo molto semplice il problema, perché lo rappresentiamo come albero, quindi l'insieme di archi, epigrecos è l'insieme di archi che costituisce l'albero di visita, adesso qui c'è tutto il formalismo di vari passaggi matematici, ma noi abbiamo già capito che alla fine si tratta di un albero, un sottografo che è di fatto sotto forma di albero, la cui radice è il vertice di partenza, e che sappiamo che questo grafo è un albero appunto, perché per via del lemma il predecessore è unico, è univoco, e quindi questo è l'albero a cui già eravamo arrivati prima, stiamo ragionando sull'esempio. Allora, sfruttiamo questo albero, questo è il punto di arrivo, noi dobbiamo costruire questo albero ovviamente partendo dal grafo completo, dobbiamo scoprire quali archi mi servono e quali invece non mi servono, nella scoperta dei cammini minimi. Poi ci sono dei problemi, però oggi vorrei saltarli, non vorrei entrare sul fatto di che cosa capita quando ho degli archi con pesi negativi, che sono, diciamo così, dal punto di vista delle applicazioni pratiche sono praticamente irrilevanti, perché se il peso significa un costo, significa un tempo, significa una distanza, queste non potranno mai essere negative. solamente per dire che ci fossero dei grafi i cui archi hanno pesi negativi, a volte il problema del cammino minimo è mal posto, perché potrebbe non esistere il cammino minimo, come ad esempio in questo caso qua, io andando da S a G posso fare questo cammino, e poi quando sono in F posso andare verso G pagando un peso 7 oppure potrei pensare di tornare indietro da F su E e poi da E a F e tutto questo giro ha un peso meno 3 perché abbiamo un meno 6 e un più 3 il che vuol dire che ogni volta che io faccio quel giro il mio peso diminuisce di 3 diminuisce anziché aumentare quindi più vado avanti più giro lì meglio è meno pago e quindi di fatto il cammino minimo sarebbe S E F E F E F E F E F all'infinito e poi G no, però all'infinito questa non è una cosa pratica ok? non esiste un cammino minimo quindi ci sono chiaramente in questo caso il problema non è risolubile non si può porre allora ci sono degli algoritmi che se ne accorgono e quindi ti sollevano algoritmi che invece non se ne accorgono e ti danno un risultato sbagliato ma noi a monte possiamo dire tranquillamente che nei nostri problemi i pesi negativi non li avremo mai e quindi questa casistica qua non ce la poniamo non ci preoccupiamo quindi dimentichando per un attimo i pesi negativi questo secondo lemma è un'estensione di quello precedente che dice essenzialmente lo dico in parole semplici senza andare a analizzarlo dal punto di vista matematico che se io ho un cammino minimo ok che va da v1 a vk ok da v1 a vk e scelgo un i e j a metà intermedi tra 1 e k troverò un vertice v con i e un vertice v con j che stanno sul cammino minimo tra v1 e vk allora ciò che dice questo teorema è l'estensione di quello precedente è che questa sede di archi è anche il cammino minimo tra i e k quindi un cammino minimo se io lo taglio a pezzettini ciò che resta è ancora un cammino minimo chiaramente tra il suo vertice di partenza e il suo vertice di arrivo ma a questo punto possiamo usare questa proprietà al contrario cioè io prendo un cammino qualsiasi vado a prendere un suo segmento qualsiasi e mi chiedo guarda questo segmento qualsiasi anche piccolino fatto di un arco solo è il cammino migliore tra questi due vertici perché se non è il cammino migliore tra questi due vertici perché basta magari fare una triangolazione col vertice vicino per accorciare il cammino allora non potrà essere parte del cammino minimo globale e allora e viceversa se invece scopro che ogni singolo pezzettino è la soluzione migliore per connettere questi due vertici vicini allora complessivamente avrò un cammino minimo perché ogni suo frammento è un cammino minimo alla sua volta in pratica lo riassumiamo dicendo che io ho trovato un arco UV che fa parte del cammino minimo dell'albero dei cammini minimi che sto cercando se vale questa proprietà la distanza minima dalla sorgente al vertice U più il peso dell'arco che va da U a V è uguale alla distanza minima tra S e V ok? quindi banale io parto dalla sorgente S faccio un cammino chissà quanto lungo arrivo a U e poi ho un arco che va verso V mi sta dicendo se questo cammino è il cammino minimo e questo arco fa ancora parte dell'albero dei cammini minimi allora questa equazione qua è banale nel senso che la distanza per arrivare a V è uguale alla distanza per arrivare a U più il peso di questo arco il peso W di questo arco l'attenzione però che delta l'abbiamo definito come la distanza minima quindi questa equazione qua varrebbe sempre dato qualunque cammino se si aggiunga un arco il peso si somma però qui mi sta dicendo il peso il cammino minimo per arrivare a V è uguale al cammino minimo per arrivare a V a U scusate ok? quindi questo qua è un incontro non la conosciamo ancora questo delta né sappiamo ancora quale sia il cammino minimo però se questa equazione noi reagiamo al contrario allora se il teorema mi dice se questo è il cammino minimo vale questa equazione noi reagiamo al contrario se questa equazione non vale allora non è un cammino minimo e lo devo cambiare e lo devo migliorare viceversa se scopro che col cammino che ho trovato questa equazione vale allora sono sul cammino minimo sto usando degli archi che fanno parte del cammino minimo e allora se questa per definizione di minimo se questo è l'arco minimo qualunque altro arco che scegliamo avrà un valore maggiore uguale rispetto a quello di prima quindi noi stiamo dicendo io ho la misorgente S voglio arrivare a V e ho tanti U' tra cui scegliere come ultimo passo ci concentriamo sull'ultimo passo tra questi e quindi ho dei cammini che arrivano a tutti questi vari U' cammini minimi e io però non so se questo supponiamo di conoscere questi cammini minimi per il momento mi concentro sull'ultimo tratto quello tra i vari U' possibili e V mi sta dicendo guarda di tutti questi archi tutti soddisferanno una disuguaglianza e uno soddisferà l'uguaglianza ok tra questi tra questi vertici tra la lunghezza di questi cammini io non so ancora quale soddisferà l'uguaglianza ma di sicuro tutti quelli che non fanno parte del cammino minimo hanno il valore di questa espressione insomma maggiore di quello che avresti nel cammino minimo perché maggiore perché sto facendo un percorso non ottimale sulla base di questi ragionamenti si definisce un'operazione che si chiama rilassamento o relaxation che permette di migliorare localmente un cammino dato un cammino io provo a modificarlo se scopro un modo migliore per modificare anche solo un piccolo tratto di questo cammino in pratica cosa faccio costruisco in modo incrementale il mio pi greco cioè il mio albero dei cammini minimi e parallelamente chiaramente le distanze i delta qui lo chiamo d e non delta perché saranno delta quando avrò finito quando avrò veramente i cammini minimi per il momento li chiamo d come distanze che ho scoperto finora ok allora inizialmente io so che il mio arco è semplicemente il mio grafo del mio grafo conosco solamente la sorgente quindi questa impostazione mi dice guarda io ho S che non ha predecessore ovviamente perché è la radice e ha peso 0 gli altri tutti gli altri vertici hanno distanza infinita perché non so ancora non ho ancora pensato ho scoperto nessun cammino per poterli raggiungere e poi applico ripetutamente questa operazione che dice guarda prendiamo tre vertici il primo dunque il nostro problema parte da S ok allora e D rappresenta la distanza tra S prendiamo un arco da U a V qualunque un qualunque arco del grafo esiste ha un peso W adesso andiamo a chiederci usiamo la disuguaglianza di prima D di V è maggiore di D di U più W cosa stiamo dicendo stiamo dicendo la distanza per raggiungere V sottinteso che conosco finora è più lunga della distanza per raggiungere U che conosco finora più il peso dell'arco V dell'arco V cioè questo D mi sta dicendo io conosco già una strada per arrivare a V e hanno certa lunghezza 100 poi conosco già una strada per arrivare a U che hanno certa lunghezza 80 il peso dell'arco W quanto vale vale 10 allora aspetta la strada che conoscevo per arrivare a V non era più furba perché ho scoperto che se passo da U e poi faccio l'arco tra U e V che ha peso 10 riesco ad arrivare a V riesco ad arrivare a V passando da U quindi il predecessore di V prima era diverso adesso lo faccio diventare U perché ho scelto di passare da U perché mi sono accorto che con la strada migliore che conosco per arrivare a U che non è detto che sia la minima ma è la migliore che conosco finora più la lunghezza dell'arco trovo un cammino il cui peso è minore del cammino che conoscevo finora per arrivare a V del miglior cammino che conoscevo finora per arrivare a V e allora butto via il cammino vecchio e sostituisco quest'ultimo quindi scopro che quest'arco farà parte forse se non troverò ancora soluzioni migliori ancora migliori farà parte del cammino minimo per arrivare a V quindi io uso questa disuguaglianza per dire beh questo cammino qui non è minimo e quindi lo sostituisco con un altro che è migliore la disuguaglianza non funziona mai al contrario quindi sarà sempre o maggiore o uguale quando è maggiore ho scoperto quando scopro una terna di vertici cioè una coppia di vertici UV quindi un arco per cui valga questa disuguaglianza allora automaticamente so migliorare il mio cammino minimo e questo lo faccio in modo incrementale quindi io conoscevo già dalla sorgente un cammino minimo di lunghezza 4 e scopro che quest'arco invece mi permette di arrivare da UV con peso 2 benissimo sostituisco l'arco a 2 ok e finora è la miglior scelta poi magari scoprirò più tardi un'altra strada per arrivare a V che non passa da U e va bene allora vuol dire che quest'arco qua non mi servirà più non sono sicuro che U farà parte alla fine del cammino minimo ma per quello che so finora è meglio passare da U che non passare dalla strada di cui pensavo di passare prima ovviamente se io avevo già un cammino che aveva un peso minore del peso dell'arco allora a questo punto lo lascio cioè non cambio la conoscenza del cammino minimo rimane non cambiata cioè un if se l'esuguaglianza la scopro così cambio altrimenti no vabbè questa in realtà sta dicendo che io posso qui la faccio breve io posso applicare ripetutamente questa regola di rilassamento alle distanze del mio grafo ovviamente io so che la distanza che trovo ok è una approssimazione della distanza vera cioè inizialmente le distanze che io ho scoperto dal vertice dalla sorgente a un qualunque vertice sono sicuramente maggiori o uguali di quella che è la vera distanza minima ma ad ogni passo di rilassamento ogni volta che trovo un arco da rilassare quindi da sostituire a quello precedente mi avvicino il valore di D diminuisce un pochino per un vertice poi il valore di D diminuirà un pochino per un altro vertice e così via tutti questi D saranno sempre maggiori o uguali del delta cioè la distanza vera e a un certo punto se ho finito l'algoritmo tutti i D diventeranno uguali al delta quindi noi abbiamo questi D che partono da infinito e poco per volta scendono quando sono arrivato ad avere tutti i D uguali ai delta ricordiamoci che i delta non li conosciamo vuol dire che non sarà più possibile fare nessun rilassamento vale anche il contrario cioè se non è più possibile fare nessun rilassamento allora i D sono i delta allora le distanze che ho trovato sono proprio le distanze minime quindi tutti questi algoritmi si basano su questo ci sono diversi algoritmi che si basano su questo principio sul principio del rilassamento l'unica cosa che differisce tra i vari algoritmi noi non entriamo poi nel dettaglio di questi è l'ordine con cui fanno l'operazione di rilassamento per cercare di farne il meno possibile in funzione delle loro logiche di ottimizzazione in certo senso ok quindi troverete una serie di algoritmi diversi dei nomi di fatto di solito prendono il nome del loro inventore che si basano tutti su questo principio parto da distanze infinite e poi cerco via via di decrementare appena scopro un arco che è una distanza minore alcuni lo fanno con dei cicli ripetuti altri lo fanno con una coda prioritaria insomma ci sono vari metodi ma alla fine il principio è lo stesso ripetere tante volte questa operazione di rilassamento fino a quando non mi accorgo che non trovo più nessun arco che sia migliorativo rispetto a quello precedente e allora deduco che ho la distanza minima qui c'è una videata in cui c'è ad esempio alcuni perché non è tutta alcuni degli algoritmi che fanno esattamente questo calcolo dei cammini minimi si barano tutti su questo meccanismo ma come dicevamo sono sono diversi ce ne sono alcuni più famosi come Bellman Ford come Dijkstra che da qualche parte forse è Dijkstra cioè più avanti perché qui sono fermato alla D oppure la Astar che è anche un altro algoritmo molto famoso ma noi non entriamo qua a studiare nel dettaglio questi algoritmi se vogliamo li possiamo usare semplicemente perché sono implementati in jgraph-t la cosa e quindi diciamo così vi risparmio la descrizione di questi algoritmi per chi è interessato si possono vedere nelle slide semplicemente vi faccio solamente notare che nello pseudocodice questo è l'algoritmo di Floyd-Warshaw che calcola tutti i cammini a partire da tutti i vertici quindi è un pochino più complicato ci sono queste istruzioni che sono esattamente quelle del rilassamento ok però lui ha tre cicli forano i dati uno dentro l'altro praticamente mi dicono faccio tutti i rilassamenti possibili immaginabili tra tutte le coppie UV e questa operazione la ripeto tante volte quanti sono i vertici è un po' il bubble sort che alla cieca lui prova a fare tutti gli scambi possibili immaginabili e alla fine è sicuro di aver fatto tutti i tentativi è chiaro che non mi basta se itero su tutti gli U e tutti i V sto iterando su tutti gli archi ma non mi basta iterare su tutti gli archi una volta perché una volta che ho trovato un cammino minimo quelli che passa da V allora tutto ciò che segue dopo V deve essere ricalcolato se modifico la distanza il peso di un vertice tutti i vertici successivi che dipendono da quello non è più detto che devono passare dallo stesso punto perché devono essere rivalutati non è un'operazione che posso fare una volta sola e quindi devo ripetere questa cosa allora la complessità di questo algoritmo è V al cubo numero di vertici al cubo che non è pochissimo però rispetto all'idea che avevamo inizialmente di dire impostiamo un algoritmo ricorsivo che avrà una complessità pari all'esponenziale al fattoriale del numero di vertici questo è chiaro che è molto più conveniente abbiamo dovuto studiare un pochino qualcuno come vedete molti hanno studiato questo problema e molti hanno tirato fuori degli algoritmi anche originali diversi che hanno caratteristiche diverse e però siamo riusciti a prendere un problema e renderlo polinomiale di complessità polinomiale e adesso per fortuna in questo caso abbiamo già la classe Floyd Worshall Shortest Path che in questo caso ci calcola tutti i cammini minimi vedete ci trova tutti i cammini minimi e ce ne sono n quadro di questi cammini minimi in un tempo n al cubo ok e ora in questo caso possiamo usare questo ci sono altri algoritmi quello di che volevo citare senza solo due parole perché poi quello che spesso usiamo è l'algoritmo di un certo signore che si chiama credo Dijkstra nel senso che si scrive così ma la pronuncia non mi impegno che ha risolto il problema invece della single source cioè di un punto di partenza mentre invece quello di l'algoritmo di Bellman Ford precedente era calcolava contemporaneamente tutti i cammini da tutti i possibili punti di partenza e questo di nuovo non entriamo nel dettaglio qui riconosciamo facilmente il passo di rilassamento con la differenza che Dijkstra usa una coda prioritaria adesso qui c'è questo codice distanza minima cioè trova il vertice il primo vertice più vicino più promettente da valutare per capire qual è la distanza minima quindi anziché prenderli in ordine a caso come faceva Bellman Ford e poi ripetere più volte lui fa un lavoro in più per cercare di scegliere qual è il vertice migliore di cui valutare se ci sia un rilassamento oppure no in questo caso fa meno operazioni perché evita alcune scelte diciamo così stupide cioè se io ho la sorgente e vicino alla sorgente ho un vertice a distanza 1 un vertice a distanza 2 un vertice a distanza 3 lui dice guarda senti prendiamo prima questo a distanza 1 e poi valutiamo i suoi vicini ok e quindi quando io vedo aversi un altro 1 qui per dire che arriva un altro vertice ciò che fa e dice guarda io ti dico già che 1 più 1 fa 2 e quindi questo vertice qua questo arco qua lo considererò prima di quest'altro che ha già peso 3 che è maggiore di 1 più 1 e quindi ordina gli archi che deve considerare in modo che non considera mai un arco che porterà a un D a un peso maggiore se non ha considerato prima tutti gli archi che portano a un peso minore e in questo modo lui riesce a considerare gli archi una volta sola e quindi ha una complessità minore ancora n quadro ma ovviamente ha il costo di gestire la coda prioritaria che ha una complessità log di n ma noi come dicevo non entriamo nell'algoritmo anche se è interessante vederlo funzionare io qui vi ho lasciato alcuni esempi sulle slide che ha una complessità data dal numero di archi perché ogni arco lo viene preso una volta sola più diciamo così l'estrazione della coda prioritaria di tutti i vertici o v vertici ciascuno mi costa l'algoritmo di v estrarlo inserendo una coda prioritaria e quindi ho questa complessità che dipende chiaramente se il termine dominante sia e oppure v log v dipende dalla densità del grafo grafi molto densi predomina e perché fa v quadro grafi poco densi predomina v log v è comunque un n log n è un v log v o al massimo un v quadro che è sicuramente più efficiente di altri quindi abbiamo un ventaglio anche qua abbiamo l'implementazione già di questa classe dentro jgraph t abbiamo un ventaglio di soluzioni possibili che sfruttano diciamo così il meccanismo di rilassamento per trovare i cammini minimi che hanno tutti una complessità polinomiale questi sono i vari algoritmi che trovate ma alcuni di quelli che trovate implementati in jgraph t perché ce ne sono molti molti di più come abbiamo visto prima e con la differenza se trovano tutti i cammini da tutte le sorgenti a pista per all paths tutti i cammini oppure single source oppure solamente da un vertice solo di partenza e quindi ciascuno diverse tipologie di problema risolto e l'efficienza che otteniamo quindi la complessità asintottica noi abbiamo un algoritmo strano che è qui chiamato repeated d'aistra e semplicemente dice tutte le volte che io ho un algoritmo single source che mi calcola i cammini a partire da una sorgente unica se io lo ripeto partendo da tutte le sorgenti possibili avrò ovviamente un algoritmo all pairs che mi dà tutte le coppie possibili semplicemente parto dal primo vedo l'albero dei cammini minimi parto dal secondo vedo l'albero dei cammini minimi e così via quindi ripeto un algoritmo di tipo all pairs e ottengo uno di tipo scusate un algoritmo di tipo single source e ottengo alla fine tutte le coppie alla fine ad esempio rispetto a Floyd che ha il vantaggio di essere sempre via al cubo a lui se ne frega degli archi perché ha un triple loop sui vertici quindi su grafi di alta densità va meglio lui su grafi di bassa densità lui comunque fa le stesse operazioni mentre invece un daestra su un grafo di bassa densità e sarà molto più piccolo di via la seconda e quindi rischiamo di avere un algoritmo che è poco più che quadratico e non cubico quindi potrebbe convenire chiaramente questi poiché sono tutti polinomiali il problema non si pone con grafi da 20 30 50 vertici 50 al cubo fa comunque ancora un numero gestibile il problema si pone quando i grafi cominciano a avere migliaia decine di migliaia di vertici allora cominciano a notare significativamente le differenze tra i vari ordini di complessità quindi mentre invece se avessimo risolto il problema in modo ricorsivo come ingenuamente avremmo potuto pensare all'inizio e probabilmente già con grafi da 15 20 nodi avremmo avuto dei problemi perché 10 al fattoriale comincia già subito a fare varie decine di milioni di iterazioni quindi due se vogliamo due lezioni uno non sempre il problema si risolve per brutta forza provando tutte le soluzioni possibili come fa un procedura ricorsiva a volte alcuni problemi si prestano a un'analisi un pochino più approfondita e attraverso questa analisi diciamo teorica è possibile scoprire degli algoritmi migliori questa è la nostra prima risposta la seconda risposta è se qualcuno ha già studiato degli algoritmi migliori per un determinato problema molto probabilmente la nostra cara libreria JGraftT li implementa già e quindi andiamo a cercare dobbiamo riconoscere riuscire a capire cosa ci sta dicendo la libreria e scegliere probabilmente una classe già fatta che ci dia già la soluzione al problema che stiamo cercando ok invece ci sono dei casi come vedremo nella prossima ora invece in cui questo giochino di tipo mi studio meglio il problema mi trovo una soluzione polinomiale e quindi non devo incappare nella complessità esponenziale a volte non si può fare alcuni problemi proprio non si sono trovate soluzioni di complessità polinomiale e quindi siamo obbligati a rimanere a complessità esponenziale e la cosa carina è che basta piccole variazioni piccole differenze nella formazione del problema che si passa di botto da una classe a un'altra di complessità questo lo vedremo nella seconda ora quando parleremo invece dei cicli sui grafi il ciclo sembra una cosa molto simile a un cammino ma in realtà è un paio di maniche completamente diverso allora su questo ci fermiamo qua e quindi facciamo un po' di intervallo e poi riprendiamo una seconda ora parlando un pochino invece degli algoritmi sui cicli quindi alla fine sempre cammini sui grafi oggi parliamo di questo poi se avremo ancora un po' di tempo proveremo a implementare i cammini minimi che sono sull'esercizio di Metro Paris o altrimenti magari ve lo suggerisco come esercizio da fare diciamo offline nelle prossime settimane adesso se non ci sono domande io mi fermerai un attimo e quindi farei i soliti classici 15 minuti di intervallo riprendendo alle 10.25 ok non vedo domande quindi vi ho stesi con un'ora di teoria a velocità sostenuta e quindi vi lascio un attimo riprendere ci sentiamo alle 10.25 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti